Grazie Presidente, abbiamo sottoscritto come Movimento 5 Stelle questo emendamento, l'abbiamo valutato come prioritario, come è già stato fatto anche dai cittadini milanesi. Non ci incoraggia ovviamente la posizione della Giunta su questo emendamento e ci viene da pensare che di fatto le grandi opere scelte dai cittadini, che sono davvero pochissime come questa, non vengono realizzate, ma allo stesso tempo le grandi opere inutili come le vie d'acqua collegate a Expo o le decine e decine di milioni per i premi di accelerazione di M5 ad esempio, per quelli invece ci sono sempre i fondi del Comune. Quindi io chiedo alla maggioranza e alla Giunta di rivalutare la posizione e di approvare quello che è un emendamento di vitale importanza per la città e anche per la fiducia dei cittadini nei confronti della politica. Questo emendamento ha davvero un peso politico immenso e per questo chiedo alla maggioranza di votare a favore e di salvaguardare la riapertura dei navigli. Grazie.